Eccoci qui ragazzi, eccoci qui, appena terminata Bologna-Roma 0-0 Non so voi ma io sono un po' rammaricato da sto risultato perché dopo i risultati di ieri di Milan e Atalanta vincendo oggi saremmo rientrati prepotentemente in zona Champions perché vi ricordo, ve l'ho detto anche ieri, secondo me la Juve non farà le coppe l'anno prossimo per cui arrivare quinto vorrebbe rinannare in Champions e tu potevi agganciare il quinto posto oggi e giocarti ancora le tue chance fino alla fine purtroppo ragazzi noi quest'anno siamo vittime dei nostri attaccanti che davanti alla porta si mancano l'impossibile perché anche oggi insomma la Roma poteva benissimo segnare un paio di gol e non ci siamo riusciti come era prevedibile Mourinho mette in campo una formazione molto molto giovane lascia fuori tutti i titolari la difesa con Cristante, Ibanez e Selic poi Svillaro in porta al posto di Uri Patristo Tahirovic, Camarà e Wijnaldum a centro campo e poi Missori e Zaleski sulle fasce Solbach e Belotti di punta un 3-5-2 insomma che nelle ultime settimane è stato più volte riproposto da Mourinho un primo tempo in cui la Roma ha fatto molto più contenimento ha spinto poco il Bologna ha mantenuto più l'iniziativa anche se poi alla fine a parte un tiro fuori area di Viano Inango da Svillare di Orsolini insomma non ha fatto, non ha creato pericolo invece noi abbiamo avuto un'occasione clamorosissima con Belotti che conferma purtroppo ragazzi la sua negatività sotto porta perché tu un po' gioca 20 partite in campionato e fa 0 con un attaccante che fa così ragazzi è un attaccante veramente scarso ragazzi va bene che è generoso, che corre, che dà tutto ma io l'attaccante deve segnare ragazzi che oggi qua a Palla porco 2 è da buttar dentro è da buttar dentro cioè oggi è l'ennesima occasione sprecata di una stagione che vedeva la Roma comunque che avrebbe avuto benissimo le sue possibilità di andare in Champions e non possiamo attaccarci agli ultimi mesi per gli infortuni perché la Roma continua a perdere punti in maniera clamorosa per colpa sua parliamoci chiaro ragazzi questo è il discorso non era facile giocare a Bologna perché Bologna comunque in casa di Bologna nessuna grande ha vinto ci hanno perso e pareggiato tutti praticamente è una squadra che è in forma è una squadra che comunque gioca tranquilla e serena visto che non ha obiettivi di campionato una squadra che però dietro giocava con tre riserve quindi questo lo dovevi sfruttare nettamente in maniera migliore e non l'hai sfruttato o l'hai sfruttato male e c'è un po' di amare in bocca oggi ragazzi nonostante poi la squadra abbia giocato ce l'abbia provato comunque ha rischiato pochissimo però ragazzi oggi la partita era da vincere e si poteva vincere nel secondo tempo poi chiaramente entrano tutti i titolari perché poi entra Mancini per l'ennesimo infortunio dei Selic anche se da quello può sentire solo un indurindimento dell'adduttore non c'è nessuna lesione quindi è stato fatto uscire per precauzione è entrato Mancini, è entrato Ebram, è entrato Pellegrini sono entrati anche Matic con Bove insomma poi nel secondo tempo la partita è totalmente cambiata la Roma ha giocato nettamente meglio con più iniziative, con più voglia con più determinazione e cattiveria ci abbiamo avuto le nostre due o tre occasioni da gol ma anche lì non l'abbiamo sfruttata quella con Bove, quella con Mancini sotto porta il colpo di testa di Abram ragazzi noi se non sfruttiamo queste cose poi le partite non le vinci non le vinci orsato, arbitrato bene anche se secondo me io non dico che quello potesse essere rigore qui o da Ligor Giannis però è anche vero che Ligor Giannis fa proprio il gesto di dare una comitata a palla lontana ai Banez cioè io ragazzi in queste situazioni capisco che il rigore può essere anche perché la palla non ci arriva però se tu vai dritto sull'uomo tu comunque devi valutare la cosa non puoi dire no non c'è niente non c'è niente non esiste che la comitata gli ha data orsato come al solito non si smentisce mai contro la Roma sono quelle situazioni che a me danno fastidio perché a parte invertire con qualche altra squadra magari lo vanno a vedere magari non lo danno però lo vanno a vedere lo vanno a valutare e vabbè ragazzi che poi la Roma alla fine ha rischiato anche di perderla con quell'azione di Zirce che ha tirato sull'esterno della rete però ragazzi oggi era importante comunque non perdere almeno guadagniamo un punto sull'Atalanta e uno sul Milan ci abbiamo le nostre residue speranze di online champions che è in campionato visto che comunque le altre rallentano tutte tranne l'Inter e poi vedremo che farà la Juventus stasera con la Cremonese però è un pareggio alla fine forse annunciato e forse anche inutile per la Roma purtroppo questo è c'è da pensare la partita del giovedì io lo capisco perché è una partita importantissima oggi si è visto per un tempo quei Naldomi in campo che deve mettere i minuti nelle gambe Svillate a mio modo di vedere ha fatto la sua onesta partita attento nelle uscite attento nei diritti da fuori direi una prestazione discreta Cristante ha giganteggiato nuovamente è stato uno dei migliori secondo me in difesa anche Ibanez oggi devo dire che a parte la cappellata iniziale comunque poi ha messo la muserola a Orsolini e quindi ha giocato bene Selic ha fatto il suo finché insomma è rimasto in campo Mancini pure insomma ha dato un po' più di tranquillità reparta retrato sulle fasce Missori ha fatto la sua partita bella partita perché non ha rischiato niente non ha sbagliato niente è chiaro che comunque insomma non è facile giocare in questo contesto comunque una partita di Serie A così all'improvviso ha fatto la sua bella partita Zaleschi devo dire anche lui mi è piaciuto oggi l'ho visto in ripresa sia dal punto di vista difensivo che offensivo in mezzo al campo Vinaldo mi ho detto ha messo minuti nelle gambe Tahirovic secondo me ha fatto un'ottima partita è stato anche lui uno dei migliori secondo me a centro campo non ha perso un pallone ha girato la palla come doveva girare non ha sbagliato un passaggio mi è piaciuto tanto Tahirovic Camara ragazzi Camara Camara purtroppo sappiamo ha quei piedi allucinanti al primo tempo ha corso parecchio a vuoto nel secondo un po' meglio però chiaramente Camara gioca perché comunque deve dare fiata ai titolari ma è un giocatore veramente modesto ha tentato anche un tiro nel secondo tempo non prendendo la porta Belotti ragazzi Belotti io torno a ripete un attaccante può essere generoso può dare tutto il campo ma deve buttare dentro l'occasione che ci ha avuto era clamorosa la Roma poteva vincere benissimo 1-0 oggi 2-0 e ha perso l'ennesima occasione Solbach che mi è piaciuto al primo tempo un paio di spunti interessanti anche se poi pochissime palle gli sono arrivate è un giocatore che chiaramente deve ancora ambientarsi un po' qui in un campionato nuovo però insomma non ha di certo sfigurato ecco nel secondo tempo poi anche Abram è entrato bene in partita ha avuto quel colpo di testa ha combattuto ha lottato in mezzo al campo Pellegrini ha messo 2-3 palle su punizione nel secondo tempo insidiose dentro l'aria che hanno creato pericoli Mati ci ha giocato l'ultimi 10 minuti si è messo lì in mezzo al campo alla fine ragazzi questo lo possiamo considerare praticamente un allenamento in vista del giovedì parliamo se è chiaro anche Bova ha dato parecchia dinamicità al centro campo però ecco ragazzi torno a ripete forse un pareggio annunciato forse un punto inutile perché se doveva vincere oggi si poteva vincere e sono contento che la squadra comunque ha lottato come sempre nonostante le difficoltà però c'è un po' dei rammarico insomma per i tre punti che potevano essere chiaramente e anche meritatamente secondo me presi per quello che si è visto in campo alla fine e ti avrebbero comunque garantito di tornare in zona Champions di rimettere lì all'ottata non è successo pazienza ragazzi adesso concentriamoci sulla partita del giovedì fondamentale per penne sesta finale gli infortunati si stanno riprendendo almeno penso che Dybala e Wijnaldum faranno parte sicuramente della partita giovedì vedremo se ci sarà il miracolo di recuperare almeno uno tra Smalling e Llorente e Sharawi ma la vedo durissima la finale c'è il 31 maggio vi ricordo quindi non lo so ragazzi prendiamoci questo punto con un po' di rammarico godiamoci la serata fatemi sapere cosa ne pensate del video iscrivetevi al canale tanti like commentate domani facciamo le pagelle sempre forza Roma ragazzi e a presto